weyla bella turica del scosso un altro giochino gratuito che ho spiegato hardwood rifazza beta e cominciamo subito allo sono sul gioco con il gioco di rinforzare i costituzioni ok vediamo con figlio pilota noi io lo voglio un bel momento prezziamenti nero 2 livello 5 un motore non c'è niente se serve con di rossi ambicolosi no ho il chiamato se è che altro voglio luar disegno aspetta no a cuore che schifo no facciamo il rosso come il nostro progetti e cominciamo a giocare all'estramento partita veloce gioco gioco sono cremati morti ad alta velocità all'estramento non voglio usarli facciamo una partita veloce e ci vediamo dentro partita ok sono dentro partita regalo io non so nessun task come giocare ok vi sto imparando ora eh oh mio dio no 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 come ok s e non so io no 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 c'è non c'è non c'è lo spara 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 no 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 spara qua spara spara qua verda c'è un distrutto ed è quasi non è tanto facile eh ma i comandi sono un casino assurdo ok con questa ma questo che usa un lancia fulmini figa merda 4% di salute prendi quello subito oh no no dai era arrivato lì dai mi ha distrutto madonna oh cosa c'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è abbiamo già finito cosa c'è oh mio dio che cazzo su poi ha lanciato una bomba nucleare minchia un nemico un nemico un nemico merda ricarica oh mio dio dietro ci abbiamo dietro merda scappa 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 cos'è sta cosa qui cos'è non è fallo fuori oh mio dio scappa 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 ma che cazzo di casino è oh madonna che lag no 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 via via 25 venti di salute via 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 che cazzo c'è di sopra oh mio dio oh mio dio ma dai non è possibile col missile ancora veloce solo caremmate voglio solo far caremmati e si vediamo dentro ancora in questa partita eccoci qua ragazzi l'uovo il tempo è per tutto siamo con il nostro caremmatino di 30 squadra bene dai comincia sta cazzo di partita distruggia squadra ma dai che novità sei nella squadra ah benissimo con il nostro caremmato non crede c'è questo non lo so ragazzi adesso vedremo qual è il nostro rammato magari questo è il più forte no questo è Muratovich 62 guando go no è il nostro oddio quanto cazzo è figo bam le nostre amico no ma è il nostro amico bam vai fuoco 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 bam 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 oddio chi merda oh merda merda vai no avanti 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 vai come on questo si può spaccare vero no già cominciamo bene allora il puntatore lame difficilissimo comandare giù è una cosa difficilissima allora aspetta stiamo questo sterza bella stiamo qua bam oh whatafuck no da di sopra ho visto adesso no merda ce l'ha fatto già il culo rega che palle no dai fai il fuoco dai no 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 vai vai indietro vai indietro vai indietro vai indietro vai indietro fai il culo questo speri dio niente ragazzi ti lascio qua lo so che non è stato una cioè non ho fatto la bella partita solo che è la cioè sono le prime partite che faccio in questi giochi gratuiti e li voglio fare insieme voi comunque lasciate un like commentate iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video bella rega